Sarebbe vissuto. Ho letto che Abramo sarebbe vissuto dal 1850 al 1650 avanti Cristo. È vero? Commento. Per la legge dell'evoluzione non ha nessuna importanza accertare il tempo in cui Abramo sarebbe vissuto. Come non ha importanza se sia vissuto o no. Per la legge è importante solo quello che Abramo avrebbe detto e avrebbe fatto, perché è parte essenziale del discorso sapienziale generale.